Allora, in mattinata Alessandro è stato sottoposto ad ulteriori e necessari accertamenti strumentali che hanno confermato il primo sospetto, cioè quello della rottura del neolegamento crociato anteriore. La valutazione clinica del professor Mariani ha supporto e conferma del dato strumentale, pertanto già in mattinata si eseguirà un intervento di chirurgia artroscopica diagnostico, quindi da prima volta a confermare il dato clinico strumentale e quindi successivamente interventistico, per cui si passerà alla sostituzione del legamento rotto. Grazie.